Ecco cosa è successo nella notte dopo la diretta del Grande Fratello tra Shaila e Javier Prosegue il percorso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello e ieri, lunedì 14 ottobre 2024, una nuova puntata del programma è andata come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 35 Alfonso Signorini, accompagnato come sempre in studio da Cesare Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, ci ha guidato in quella che si è rivelata una serata ricca di emozioni e colpi di scena Tanto materiale per il conduttore nella prossima puntata visto che questa notte dopo la diretta sembra esserci stato un vero e proprio avvicinamento sotto le coperte tra Shaila e Javier Dopo giorni di tira e molla i due, come potete vedere dalle immagini che qui sotto vi postiamo, sembrano aver ceduto alla passione baciandosi appassionatamente I telespettatori si domandano. È nata dunque la prima vera coppia ufficiale della nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini? Al momento è presto per dirlo ma i presupposti di un amore duraturo ci sono tutti Grazie Grazie